Morata ha fatto un sforzo per giocare l'ultima partita, non sta totalmente bene, io penso che possiamo gestire la situazione di Morata, sta in dubbio, vediamo come sarà domani, ma io non voglio prendere rischio con Morata. Non penso cambiare, io ho parlato sempre negli ultimi giorni, che noi dobbiamo continuare, sappiamo che è una partita diversa, penso che sarà una partita simile a quella che abbiamo con Liverpool, ma dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto, principalmente difensivamente, penso che la squadra ha cresciuto, questo è un buon test anche per vedere le nostre capacità difensiva in questo momento. Ho già detto ai giocatori che per vincere questa partita, per avere la possibilità di vincere una squadra forte come il Bayer Leverkusen, dobbiamo fare una partita principalmente difensivamente perfetta. Mi hanno inviato le parole di Xabi Alonso, è quello che io guardo sempre quando si parla di equipa italiana in Champions League, le parole sono sempre le stesse. Sono un'equipa molto brava a difendere, sono un'equipa molto brava in contrapiede. Mi piaceva essere una squadra diversa anche qui, con il tempo volevo avere un altro tipo di parole quando si parla di Milan. Dobbiamo lavorare, ma noi non vogliamo essere questo tipo di squadra. Mi sembra che quando si parla in Champions League della squadra italiana, sono solo squadre che difendono. E noi non vogliamo essere così. Domani difenderemo più, perché giocheremo contro una squadra molto forte, ma quando abbiamo la palla vogliamo anche giocare. Noi non siamo come Atalanta, noi non siamo una squadra di uomo uomo, noi non siamo una squadra di uomo uomo in tutto il campo, siamo una squadra diversa. Sicuramente non sarà lo stesso vedere domani Milan e vedere Atalanta quando hanno giocato con loro. Qual'tante sono quello che cercheremo progetico per esempio dove ci sono tutteiyor.